Cari amici, pace a tutti voi. La Quaresima ci porta oggi a guardare, anzi, a contemplare una pericope biblica molto familiare a noi, che noi conosciamo, ma forse nella sua superficie vogliamo guardare la sua altezza, la sua profondità e la cosiddetta parabola del figlio prodigo, anche se questo titolo che noi abbiamo dato non esprime tutta la parabola, ma solamente una parte, la storia del figlio minore. In realtà possiamo anche dare un altro titolo che più si addice a questa pericope biblica, per esempio l'amore del padre o l'attesa trepidante di questo padre nei confronti del figlio che ritorna. Sicuramente sono riflessioni che noi oggi dobbiamo contemplare. Dico contemplare perché è una parabola veramente da contemplare nella sua forma, nel suo contenuto, nel suo linguaggio di misericordia. E qui c'è da scoprire veramente il linguaggio di Dio, un linguaggio di attesa, un linguaggio di viscere di misericordia. Ormai penso che questa parabola è entrata nel nostro cuore, nel nostro spirito e ora dal cuore deve passare alla nostra azione, a quello che noi dobbiamo fare contemplando questa parabola. All'inizio i protagonisti sono farisei e scribi che mormorano perché Gesù va a pranzo, mangia con i peccatori, frequenta i peccatori, sta con loro. Inizia così la motivazione di questa parabola che è di una semplicità sconcertante, che non dice molte cose ma descrive solamente questa azione, questa famiglia composta dal padre e da due figli, un figlio minore e un figlio maggiore. E che arrivati a un certo momento della vita, il figlio minore chiede la sua parte, la parte della sua eredità al padre e il padre consegna. E nello stesso tempo in questa consegna c'è veramente l'amore di questo padre nella pienezza della libertà. Noi possiamo interrogarci se è giusto o non è giusto fare questo, dare tutto, ma questo non è l'interesse dell'Evangelista Luca. Vogliamo solamente leggere la parabola, accoglierla dentro di noi. Questo figlio prende tutto e se ne va, si allontana. Questa è l'azione che sicuramente ci deve spingere alla nostra intensa riflessione. Se ne va lontano, se ne va lontano da quella casa, si allontana dall'amore di questo padre dove lì aveva tutto. Sperpera tutto il suo denaro con le prostitute. Vivendo una vita dissoluta, lontano dall'amore del padre, c'è questa conseguenza. Ed ecco poi arriva una carestia, il pericolo, la tentazione, quello che non si era mai progettato. Ed ecco che si trova in difficoltà questo figlio minore. E allora avviene una riflessione, rientra in sé stesso. Ancora questo non è il vero e proprio pentimento, ma la riflessione che porterà il figlio minore a questo cammino di pentimento. Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece non posso neanche mangiare le carrubbe che sto dando ai maiali. E per un ebreo ridursi a pascolare i maiali era qualcosa di veramente riprovevole. Oltretutto l'ebreo non mangiava la carne dei maiali, era proibito. Pascolare i maiali era ancora qualcosa che degradava la figura di questo ebreo, della cultura, della loro cultura.